un giovane ateo sei ateo e allora tieni verrà messo alla prova allora ti va di uscire va bene ma t'avverto non possiamo fare nulla perché ho fatto un voto di castità a san marzano ma fra insidie e pericoli ma ricorda che tu vinca o perda sarai battezzato sarai battezzato troverà l'aiuto di un vero maestro che cazzo vuoi vincere il fedele d'oro è una spugna imbevuta del lucinogeno spargi l'acido appare la madonna e l'amore di una bionda ciao ali per il torneo mi sta allenando il pastore miagi ma è un protestante dobbiamo superare i contrasti tra chiese che lo condurranno alla vittoria finale cosa stava facendo laggiù si chiama tecnica del crocifisso me la puoi insegnare certo sono 700 euro da nelson per poter diventare karate christ